Per Brian E' il segno strike Rientra il cento pista Sudari Brian Comunicchi E ora ragazzi passiamo All'esercizio conclusivo Del nostro spettacolo Esercizio conclusivo Della nostra manifestazione Di video è presentata Dal cap'equip Roby Rossi Roby dovrà impennare Il camion Al limite del ribaltamento Esercizio Del nostro spettacolo Esercizio conclusivo Del nostro spettacolo Presentato dal cap'equip Roby Rossi Roby impennare il camion Al limite del ribaltamento E' il centro pista Per un vostro ultimo applauso Roby Rossi E' il carattolo Roby Rossi Brian Ma